Un saluto a tutti amici e telespettatori di Telebabu, di Telefed e anche a tutti voi amici visitatori e appassionati di sport, di ciclismo e di giro in Italia. Dopo questo video vi proponiamo la video intervista ad Andre Greppel alla partenza della tappa numero 13, quindi dopo questo video come già annunciato, amici appassionati di ciclismo e di giro in Italia vi proponiamo l'intervista al corridore Andre Greppel alla partenza della tappa numero 13 a Montecchio Maggiore. Un saluto nel prossimo video, seguiteci sempre e state sempre con noi su Telebabu Web 2 e Telefed. Seguiteci sempre e mettete anche un mi piace alle nostre due pagine, Facebook, Telebabu Web 2 e Telefed. Quindi non mi resta altro che salutarvi e lasciarvi al video intervista di Andre Greppel. Un saluto nel prossimo video, seguiteci sempre e buongiorno in Italia di nuovo a tutti, una buona serata a tutti e un buon fine settimana di nuovo a tutti. Un saluto nel prossimo video, seguiteci sempre. Vi lascio all'intervista di Greppel. Ciao, un abbraccio! Signori e signori, è uno dei più uomini più valori del mondo, è campione nazionale tedesco, tenete proprio in questo signore per andare a partire oggi Andre Greppel! Tre giorni fa avevamo anche una possibilità per sprinter, non era facile, il breakaway si è passato e non potevamo per la victoria, ma ovviamente abbiamo cercato di fare meglio oggi. a partire in questo istante la dodicesima tappa della Giro d'Italia! Grazie! 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 Grazie!